Grazie ancora a tutti voi per essere qui con noi all'undicesima edizione di ICT Trade. Grazie per aver digerito l'anticipo di un mese rispetto alla nostra tradizione. Solitamente ICT Trade si tiene nel mese di giugno. Abbiamo pensato bene che anticiparlo di un mese forse avrebbe potuto mettere in condizione gli operatori del settore di far succedere qualcosa anche nel secondo trimestre di quest'anno che non si sta presentando come particolarmente brillante ma queste sono considerazioni che ci faremo in altra occasione. Cosa volete che vi dica? Proviamo a raccontarci delle cose all'insegna della grande tranquillità d'animo e soprattutto della coscienza che indietro non si torna, che bisogna andare avanti con decisione, che bisogna far succedere delle cose, che bisogna rendersi conto che si deve cambiare passo, che il sistema Italia deve cambiare passo, che i partiti, le organizzazioni sindacali, i governi, le aziende, le pubbliche amministrazioni, le persone devono cambiare passo. Vediamo un po' cosa riusciremo a costruire nella giornata di oggi. Riccardo Maiarelli per un saluto di benvenuto. Grazie Riccardo.